Partenza formale, anche se Barbara ci si è visti prima ha capito che è partita un po' di tempo ed è partita bene, è partita con la convinzione che sulle vostre spalle c'è la necessità di riportare il Como lì dove merita. Il mondo come dicevamo prima è veramente una finestra italiana sul resto d'Europa, l'Europa che mai come in questo momento è centrale nella nostra vita, nella nostra assistenza, negli orizzonti politici che stiamo costruendo e come quella finestra l'ha chiusa, come è stata ai margini anche delle dinamiche politiche regionali e nazionali. Io non l'ho mai trovata al tavolo in Lombardia e agli altri sindaci nei momenti più difficili della pandemia, per fortuna abbiamo avuto l'ottimo presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra, il nostro Mauro Guerra e Beppe Sala che hanno provato con noi del buono a fare un po' i coordinatori dei sindaci Lombardi perché fosse stato per la destra già durante la pandemia. Noi avremmo dovuto chiudere dentro una sorta di autarchia il nostro paese e saremmo dovuti andare avanti a tentora, invece i nostri sindaci hanno fatto quello che bisognerà continuare a fare su un'altra dimensione, che è la dimensione che viene fuori dalla crisi internazionale.